I carabinieri della stazione di Adrano, in provincia di Catania, con il supporto del nucleo operativo della compagnia di Paternò, hanno assicurato alla giustizia quattro presunti autori del tentato omicidio di un ragazzo di 20 anni del posto con precedenti di polizia, aggredito con inaudita violenza, con ripetute bastonate, calci e pugni. In particolare, i militari dell'arma dei carabinieri, intervenendo tempestivamente sul posto, sono riusciti dapprima ad arrestare nella fragranza dell'efferato delitto una coppia di Adraniti, un pregiudicato di 42 anni e il figlio di 21 anni, eseguendo poi all'esito di un'articolata attività d'indagine il fermo d'indiziato di delitto della polizia giudiziaria nei confronti di altri due soggetti, sempre residenti ad Adrano, un 32enne pregiudicato e un ragazzo di delitto. Un ragazzo incensurato di 22 anni. In merito alla ricostruzione dei fatti, gli operanti nella serata del 16 marzo, a seguito di una segnalazione di persona ferita del 112, si sono velocemente recati nella centrale via Donizetti di Adrano, rinvenendo riverso in strada un ragazzo in stato di semicoscienza, con gravi ferite sul corpo, visibilmente impaurito, che ha riferito in maniera scassamente verosimile di essere caduto accidentalmente. Prestati disnecessari soccorsi alla vittima che è stata trasportata all'ospedale di Biancavilla, ha riportato 30 giorni di ipognosi per trauma cranico e una frattura a un'arto inferiore. I militari hanno avviato le indagini che, attraverso acquisizioni informativi e all'ottima conoscenza dei soggetti di interesse, hanno consentito così di ricostruire le varie fasi dell'aggressione e identificare i presunti responsabili, in particolare della visione e delle immagini che si trovano nelle vicinanze del luogo dell'azione criminale. Si è potuto chiaramente osservare come i quattro uomini, raggiunti di corsa il ventenne, mentre stava uscendo dalla propria auto, in branco lo hanno iniziato a pestare con forte brutalità, senza risparmargli, anche quando era ormai indifeso, colpi alla testa e alle parti vitali, lasciandolo in strada senza sensi.